Forse sarai vissuto un po' male per le compagne di squadra? Assolutamente, io giustifico sempre quello che faccio. Se ho deciso di... Barbara, che ho? Elisa? Prova di avere molto coraggio perché possibile nominata sono rimasta nella mia squadra. Questo credo faccia onore a tutte le donne perché comunque le ho amiche. Grazie, voglio dimostrare che non sono codarda, che anche se ho rischiato di andarmene a casa me resto qui. E ora mi propongo per tagliare i capelli. Brava Elisa! Beh, chi è donna lo sa. Chi è donna lo sa. Scusami Elisa un attimo perché io ho il dovere di chiedere se c'è qualcun'altra che si propone e che vuole essere in muna. Nessuno? Lasciamo questo compito Elisa? Noi accettiamo la proposta. Io ho poco tempo. Grazie. Io ho poco tempo. Chiedo a voi che cosa faccio. Faccio fare subito la prova coraggio e quindi il taglio dei capelli che vi premetto. Adesso ve lo spenderà Federico. Non è un taglio aggraziato. È un taglio di quelli non piacevoli. Così? Allora. Scusate. Lo facciamo subito? Allora la regola prevede, avevamo detto anche la nostra Elisa, è il momento di tagliare la coda. Prego. La nostra parrucchiera sa qual è la regola. Prova coraggio che vale l'immunità. Alzalo, alzalo bene la coda. Ad Elisa Bagordo. Elisa non cambia idea. Le sue compagne di squadra. Come ti senti Elisa? Ma un po' preoccupata, però vabbè, insomma esistono sempre gli extension. E che ribadisco il concetto. La nostra parrucchiera non farà un taglio aggraziato come bello. Però aspetta, la coda, per chi le aveva mezzi, la coda non era tipo una coda un po' più allungata? No, no, è così. È il momento di tagliare. Quindi non è un taglio aggraziato, ma è un taglio netto. Così. 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 vorremmo vedere lo scatto. Faccelo vedere. I miei complimenti a Elisa Bagordo. Vado a ricordare ad Elisa che continuerà la sua permanenza nella fattoria con i capelli in questo modo. Brava Elisa. Complimenti davvero. Questa vicina l'estate, quindi con il caldo vado anche meglio ad asciugarli. Mi ricordo che Elisa questa sera, se la produzione accettasse questo taglio, ma non ci sono dubbi, sarebbe immune. Inata non potrebbe lasciare la fattoria. Federico, cosa mi dici? La produzione accetta e si complimenta anche per il coraggio nell'affrontare la prova di immunità. Elisa Bagordo è il muro. Complimenti. Anche perché l'ho fatto, perché voglio dimostrare che stiamo in squadra e che una possibilità ce la dovete dare. Una. E sono sicura che questo cambierà anche l'idea di chi ci sta guardando da casa. Grazie Elisa. Andiamo avanti. Andiamo avanti perché... Andiamo avanti perché, come vedete, le cose possono cambiare. Fra pochissimo vedremo anche l'aggiornamento del televoto, ma quella anche per i contadini.